buonasera a tutti quanti eccoci di nuovo ecco buonasera a tutti quanti eccoci di nuovo eh in diretta eh per una nuova avventura nel cinema e abbiamo un ospite d'eccezione mettiamoci così così lo lo vediamo meglio e apprezziamo meglio il nostro il nostro ospite Joelle della biblioteca di Alessandria che diciamo non ha bisogno ovviamente di di presentazioni diciamo è un punto di riferimento per la divulgazione della storia del cinema di curiosità e chi più ne ha più ne metta quindi diciamo che prima o poi lo dovevo invitare e ha accolto con grande piacere questa eh questa mia eh questa mia iniziativa tra l'altro un'iniziativa che è nata ehm già da qualche mese quando lui ha fatto sotto Natale eh una splendida recensione ma in realtà non era proprio una recensione era più un'analisi eh socio socio culturale del di una poltrona per due in cui andava ad affrontare come i temi ehm diciamo razziali ma non è non è banale dire così un elemento anche di di contrapposizione potesse essere più o meno attuale a distanza di quarant'anni come appunto in quel in quel momento storico veniva affrontato in un determinato momento ma vediamo come l'evoluzione cambia quindi ho detto a Giulia ma potremmo fare un qualcosa di più strutturato qualcosa che possa abbracciare un po' la storia del cinema è un parolone perché in un'ora e mezza non potremo andare a a potremmo soltanto affrontare alcuni casi però secondo me possono essere indicativi di come il mondo è cambiato e non sempre eh in meglio e colgo l'occasione di portarti i saluti di Aldo Giannulli che ho avuto ieri in cui io ho anticipato appunto salutando gli utenti di ieri che avremmo eh avremmo parlato di questo argomento e sconsolato ha detto non si può più fare una battuta non si può più raccontare una barzelletta che qualcuno si offende dico Aldo il punto è che bisogna saper anche raccontarle nei contesti anche capire la suscettibilità delle persone perché se lo fai in televisione con milioni di persone qualcuno potrebbe anche offendersi quindi questo sicuramente è da mettere in conto e tu come come che ci dici ma intanto grazie grazie assolutamente anche perché se lo diciamo se ci abbiamo messo un po' da quel video da arrivare a farlo è colpa mia che ho sempre il tempo un po' incastrato e ti chiedo scusa ti ho obbligato ad avere spazi molto limitati peraltro Aldo tu pensa che mi aveva contattato per fare una cosa simile però partendo dalla serie quella su Alessandro Magno è uscita su Netflix e quelle robe lì e poi erano quelle proposte che mi scrive per messaggio e poi si dimentica e quindi rimangono rimangono nell'aria. Allora ricordiamoglielo Aldo sappi che c'è ancora in ballo qualcosa. Aldo si ricorda solo quando dobbiamo fare qualcosa che poi si mangia poco da dire insomma a tavola raccontare delle cose meravigliose però insomma no però a parte le battute sì è un argomento secondo me per carità molto spinoso anche perché si presta molto facilmente a polarizzazione in cui come spesso capita le cose oggi cioè o pensi bianco o pensi nero non si può avere un pensiero di mezzo però comunque è un qualcosa che va affrontato anche perché oltre a causare polarizzazione rischia veramente di far perdere tanti aspetti anche della storia oltre che della cultura pensiamo solo a tutte le discussioni che ci furono legate all'abbattimento delle statue negli Stati Uniti forse addirittura era ancora prima del covid o comunque lì intorno cose che partivano dai stanze reali cioè di chi diceva possibile che a distanza di così tanti anni secoli un più di un secolo ci siano ancora persone che rivangano quel passato per portare avanti delle politiche attuali ma che poi come spesso capita è partito per la tangente e chiunque anche sei secoli prima avesse avuto degli schiavi vedeva cancellato tutto quello che aveva fatto e diventava una persona terribile è un po questa questione e purtroppo anche nel cinema io poi ne parleremo credo cioè ed è una discussione secondo me interessante come giustamente tu dici ci sono battute battute ci sono momenti e momenti per dire battute la sensibilità cambia anche col passare del tempo ma questo non vuol dire che bisogna cancellare completamente tutto perché altrimenti butti via anche il bambino con l'acqua sporca insomma perfetto vedo che ci troviamo in sintonia anche nella nella ponderazione nell'essere obiettivi e diciamo anche diciamo trovare una via di mezzo in cui non si può da una parte essere diciamo talebani perché poi diventi talebano perché il discorso della del 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 distruggere monumenti distruggere elementi arrivi veramente a a a epoche del passato che sono oscurantiste diciamo magari diciamo l'istanza può essere buona quella di reclamare una maggiore applicazione di diritti di uguaglianza di rispetto di tolleranza e di inclusione però dall'altra parte diciamo troviamo il l'effetto esattamente contrario allora io ho preparato alcune slide questa è la copertina e volevo partire da alcune polemiche proprio sul cinema eh delle ultime degli ultimi mesi in cui appunto si vanno eh sono state eh proibite ridoppiate eh in qualche modo bollinate con bollini da prima erano verdi diciamo anche Mary Poppins Mary Poppins che forse è il il film uno tra i film per l'antonomasia per per bambini per tutte le età i cosiddetti film per famiglie e e ultimamente appunto si è reputato di in qualche modo dover doverci rimettere le mani perché ha delle eh delle eh situazioni che possono andare a toccare eh qualche sensibilità e questo ovviamente anche con via col vento con il doppiaggio d'epoca in cui c'era un elemento anche un po' folcloristico eh delle parlate delle dei personaggi di colore per non parlare di James Bond con i suoi elementi sessisti elementi diciamo anche di violenza gratuita però diciamo che se entriamo nel discorso della della violenza poi diciamo veramente non sappiamo sappiamo dove iniziamo ma non sappiamo dove finiamo perché tutto tutto è è è allargabile io credo che su questo ci siano due punti secondo me importanti il primo è che ogni tanto questi titoli escono un po' più forte di quello che è la realtà perché ci si dimentica sempre che i famosi bollini non è che sono un divieto non è che c'è un poliziotto davanti che esce dalla cosa ti impedisce se hai meno di 14 anni vedere il film sono sempre consigli e in realtà se uno poi li va a vedere più che consigli di età sono sempre che ti dicono guardali ma con un genitore cioè il famoso bollino arancio io ricordo negli anni 90 2000 non voleva dire un bambino non può guardarlo ma lo guarda con un genitore che poi su certe cose andrebbe andrebbe sempre fatto è per carità e altra cosa interessante da dire è che il rischio e che poi cancellando certe cose si perde anche l'occasione per approfondire certi argomenti ad esempio per quanto riguarda via col vento mi viene in mente perché ho visto davanti mi è venuta in mente quando usci via col vento l'attrice che interpretava mami che perdonami non ricordo assolutamente come si chiamasse fu la prima attrice di colore a vincere un premio oscar per miglioratrice non protagonista prima attrice di colore e all'epoca ci fu tantissima polemica anche nei movimenti contro ovviamente la segregazione razziale perché l'attrice era intanto accusata di aver vinto quell'oscar con una parte in cui rappresentava una schiava in cui rappresentava interpretava tutti i cliché possibili immaginabili della persona di colore ma dall'altra parte era anche accusata di essere una delle attrici che non erano schierate politicamente con chi si opponeva alla segregazione razziale quindi insomma all'epoca tutto questo già scatenò delle polemiche e tutto questo andrebbe spiegato perché in realtà cancellarlo vuol dire togliere la base da cui si parte per arrivare alla situazione di oggi altrimenti poi si fa il gioco di chi dice a tutte queste discussioni nascono perché ci sono solo due personaggi di colore invece che quattro bianchi in realtà non è così c'è molto di più ma se tu lo cancelli e tratti le persone come fossero dei bambini tagli anche qualunque possibile discorso che può venire dietro come giustamente vedevi c'era usciva in un commento rispetto a quello che ho detto prima sui cosa vuol un monumento per cristofaro colombo può dire una cosa a me può dire qualcos'altra un amerindo è verissimo ma se tu quel monumento lo distruggi in realtà tagli la discussione alla base non porti una discussione che permette di capire di più e imparare di più rispetto a quello che c'è che sia davanti insomma bene ottimo andiamo avanti allora io ho iniziato con appunto questo l'abbiamo l'abbiamo in parte diciamo ripreso appunto e abbiamo parlato di via col vento ma in realtà poi possiamo allargare ai racconti dello zio tom e tutta un'altra serie di di pellicole che in qualche modo appunto vanno a inquadrare il personaggio di colore come inevitabilmente che devono parlare in quel modo e quindi diciamo che c'è un modo di anche deridere di diciamo di trattarli in maniera inferiore perché appunto hanno una capacità di linguaggio diverso però rientra appunto nel discorso che facevamo allora e vabbè qui invece questi li ho trattati singolarmente qui james bond con scene di quasi stupro in goldfinger in scene diciamo in cui si si prendono in giro i giapponesi o comunque si fa un un'analisi tra occidente e oriente in cui appunto l'elemento diciamo tipico della del maschio occidentale che sembra essere padrone del mondo e quindi a maggior ragione di donne di donne orientali e qui arriviamo eh con ehm prodotti di casa nostra io appunto ho iniziato con questo del mio centocinquanta che secondo me in qualche modo ci evidenzia eh un percorso e qua io che sono amante di tutto eh ho eh notato come ci sono molte pellicole in cui ovviamente questo rapporto con passatemi il termine con la diversità ma la diversità ovviamente di una società come poteva essere quella italiana della successiva la guerra tra l'altro che aveva avuto anche un'esperienza coloniale particolarmente forte particolarmente anche controversa e quindi diciamo si direbbe beh c'è stata la guerra dovremmo in qualche modo avere una sensibilità maggiore rispetto a determinate tematiche invece il cinema italiano del secondo dopo guerra non ha nessun problema ma vedremo anche nei decenni successivi a affrontare determinati tema è una eh negra è una selvaggia forse una cannibala quindi il concetto che eh una una donna che viene proposta a totop per sposarla per una serie di equivoci deve essere per forza appunto questo discorso il cuore della pelle vuol dire che è in un del piano modo e quindi rischiamo che eh mi mi si mangia e il giorno dopo mi mi trovo nella nel bollito eh di mia moglie questo è un elemento interessante diciamo interessante ci racconta come era in quel momento anche la specificità e allo stesso lo stesso modo sempre nel cinquanta e questo lo troveremo come elemento anche in tempi recenti eh Totò Tarzan Tarzan ha come amico questa questo scimpanzee eh che deve far viaggiare sul treno e non vuole far pagare il biglietto quantomeno non vuole far capire che c'è uno scimpanzee sul treno allora dice al al controllore che è il senatore della Somalia quindi dice diciamo è che è scuro in volto e qualche modo lo possiamo spacciare per il senatore della Somalia quindi questa cosa è che purtroppo poi vedremo come determinati cliché eh ce li troviamo ancora ancora oggi tu come la come la senti come la percepisci nella realtà degli anni cinquanta per esempio secondo te questo rapporto anche col discorso coloniale che è fresco beh c'è teccipenti del cinquanta vuol dire che 12-13 anni prima da noi giravano le lignette con il soldato che tornava dall'Etiopia portando come valigia una donna esatto e per quanto magari ci fossero persone che non la pensavano diversamente era ovvio che eravamo stati bombardati per anni e non veniva percepita questa battuta come come cattiva perché purtroppo era percepita con una normalità ma d'altronde 30-40 anni fa si facevano battute sugli omosessuali ed era una cosa assolutamente accettata nessuno se ne stupiva sicuramente c'erano delle persone che soffrivano di queste battute perché questa eh pur essendo assolutamente accettabile accettabile nel senso è comprensibile che all'epoca si facessero battute del genere però era ovviamente non satira ma era prendere in giro un gruppo etnico in quel momento svantaggiato e quindi erano battute sparsami termine cattive eh nel momento in cui tu deridi chi è più svantaggiato di te stai termine bullismo è assolutamente abusato però insomma eh ti stai approfittando della tua situazione di superiorità sono battute che adesso in questo momento probabilmente anche giustamente non non sarebbero non solo fatte ma sarebbero stigmatizzate anche guardandoli in un film vecchio che magari un giorno saranno rivalutate nel momento in cui si riesca veramente a non avere più nella società odierna una separazione da questo punto di vista cioè nel momento in cui non ci sia più una base di sofferenza su queste cose verrà preso come una cosa di 70 80 100 anni fa senza più nessun problema ehm come come l'antisemitismo di shakespeare mi viene in mente come sì 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 cioè che ovvio che oggi viene non viene più concepito in maniera così forte magari ci si rimanda altre cose ma mi viene un altro esempio negli anni 50 in piemonte da noi i veneti erano trattati malissimo venivano chiamati perdonatemi il termine i terroni del nord perché erano quelli che venivano in piemonte in lombardia a cercare lavoro veniva eh la donna a lavorare in casa normalmente giovane veniva l'uomo a fare tutti i lavori possibili immaginabili e venivano trattati malissimo è stata la prima grossa ondata migratoria prima che arrivassero ondata migratoria dal sud se io vado a rivedere una battuta adesso non ho idea di poterne trovare però ci saranno sicuramente dell'epoca su questo oggi non scatenerebbe nessuna polemica perché oggi i veneti eh sono una delle regioni più ricche d'italia e nessuno li considererebbe in maniera negativa per il loro lavoro e loro possibilità lavorative come sarebbe gente povera quindi quella battuta non farebbe più né caldo né freddo e verrebbe semplicemente derubricata a un passato di cui si può parlare e il presente forse è quello su cui bisognerebbe lavorare per poi andare a recuperare le cose nel passato bene ora questo questo è veramente questa quest'ultima considerazione che ha fatto è veramente illuminante che ci permette anche di capire come alcuni alcune esperienze alcuni elementi critici linguistici sociologici eccetera possono essere anche superati dagli eventi nel senso che ovviamente poi l'evoluzione della della società cambia e paradossalmente ci potremmo trovare fra cinquanta cent'anni che ci saranno che ne so i cinesi che prendono in giro i bianchi per una serie di di realtà in Italia dove appunto c'è l'elemento produttivo eh di 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 origine asiatica per dire questo è molto interessante anche dell'evoluzione stessa della della società appunto non fosse altro che diciamo poi io io mi sono occupato per tanti anni di antisemitismo in Italia per esempio e appunto e della diciamo della subcultura della razza nel fascismo come si cercava di di convincere l'italiano medio che vi fosse una razza italiana quando penso che sia uno dei popoli maggiormente immischiati maggiormente in cui vi è un un innesto di di etnie di popoli di di condizioni varie diciamo e quindi in qualche modo era assolutamente impossibile andare a definire un qualcosa di evidente diciamo puro a livello ideologico e questo sicuramente è un discorso che si ricollega a quello che dicevi secondo me c'è anche un altro aspetto importante cioè che ma questo ovviamente bisogna poi ragionarci non arriva subito e quindi è più una cosa per adulti che questi documenti questi film bisogna anche andare a vedere verso chi era diretta la battuta mi spiego meglio ad esempio in questo caso senatore della somaglia è ovvio che non sia una battuta che va a colpire le persone di colore in maniera diretta voi perché in Italia all'epoca quasi non ce n'erano erano pochissime e non erano l'obiettivo la battuta in realtà è ovviamente una battuta non sense e alla fine che ci fa la figura dello scemo e il controllore che crede veramente che quella sia una persona umana e oggi con un'altra sensibilità la percepiamo in maniera negativa ma in realtà lì non c'è nessun intento denigratorio verso le persone di colore e va capito ripeto oggi la sensibilità non permetterebbe di fare una battuta del genere ma già all'epoca non era una battuta denigratoria è ovvio che se invece vai che ne so adesso ma guarda andiamo 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 comunque diciamo eh guarda qui diciamo una carrellata qui ehm anche elemento della romanità io che sono romano eh diciamo a Roma l'elemento con diciamo contro l'elemento della ehm eh della presenza di una delle comunità ebraiche più antiche del mondo dopo ovviamente eh la 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 diciamo diciamo di un'evoluzione anche di di diffusione degli ebrei in tutto il mondo e come Alberto Sordi negli anni possa aver avuto delle battute anche forse un po' pesanti nei confronti degli ebrei qui ci troviamo nel film la grande guerra del cinquantanove e c'è un maggiore dell'esercito italiano che ha eh come eh come come diciamo è ebreo e eh Alberto Sordi che vede in questo caso l'autorità di questo maggiore come colui che lo porta a morire perché gli gli comanda eh l'avanzata ma deve specificare che è ebreo e tu guarda sto giudio fanatico cevo fa mazza per forza e l'elemento del fatto che sia ebreo rafforza la critica anche sociale di una subcultura romana nei confronti della 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 comunità ebraica romana e in generale questo secondo me è anche un e lo ritroveremo dopo con eh con il Marchese del Grillo ve lo anticipo questo è un altro secondo me elemento interessante eh per rapportarsi anche con l'elemento storico di di ehm eh di coabitazione di presenza all'interno di una comunità eh comunque importante del di Roma e dell'Italia. Sì che peraltro nel Marchese del Grillo eh non bisogna anticipare che poi in realtà lì la figura del del giudeo per assurdo diventa poi una figura positiva cioè del truffato. Certo. Certo. Quindi quasi non ribalta la situazione. Sì. Insomma da questo punto di vista. Ma ne parlere ne parlere. Sì dimmi. No 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 è ragionissima è ragionissima. Ok. Qui eh ho inserito due pellicole che affrontano eh il disco cioè affrontano che sono state censurate perché personaggi delle due pellicole sono omosessuali e quindi ho ho pensato di diciamo all'interno di questo discorso che stiamo facendo come c'è un cinema di questo periodo quindi un cinema in cui c'era ehm anche una certa sensibilità tradizionale no? diciamo siamo prima del sessantotto quindi c'è una un canone classico della famiglia con determinati eh stili eh di di vita in cui non si può affrontare dei temi e appunto eh in la gatta sul tetto che scotta e Spartacus e qui secondo me è interessante anche Spartacus che ovviamente affronta un tema come cioè affronta ma viene censurato e almeno nella nelle varie versioni per esempio questo di di Spartacus in cui c'è questa scena abbastanza equivoca eh tra ehm tra Tony Curtis e mi sfugge il nome ehm vabbè mi sfugge il nome dell'attore eh in cui in cui poi è stato tagliato è stato eh riproposto recentemente con i sottotitoli perché non è stato doppiato e quindi in qualche modo cioè ci evidenzia come un certo cinema eh non può essere non può trattare determinati argomenti quindi ci sono delle sforbiciate eh su alcuni temi appunto come l'omosessualità negli anni cinque. e questo secondo me è anche interessante di come viene eh diviene utilizzato o viene in qualche modo eh sezionato il tipo di eh messaggio che si vuole dare su questo ma ti posso ti posso dire una cosa veramente brutta che secondo me in realtà è ancora così oggi nel senso che oggi ci mettono il personaggio omosessuale così numericamente lo hanno messo a volte è ridicolo perché per fare numero però poi quando c'è da parlare di trasformare l'aspetto romantico legato all'omosessualità lì ci si fa ancora molta fatica ad arrivare lì è ancora molto difficile andarsi cioè o sono film dedicati a quello tipo i segreti di Brockback Mountain quelle robe lì altrimenti i personaggi omosessuali quella omosessualità la sbandierano dicendo io sono omosessuale io sono lesbica io sono queer ma poi tutta la parte sentimentale quasi non esiste e si contano un po' sulle ditte di una mano chi si occupa di quella parte lì quindi non lo non la censuriamo più in maniera evidente ma più subdola più subdola perché il senso che capiamo che esistono che in qualche modo dobbiamo tollerarli passami il termine ma non possono ambire a una normalità familiare e quindi questo secondo me è ancora un grosso problema a livello proprio sociale e culturale. Sì le grandi case vogliono evitarsi le polemiche di chi gli dice e non c'è il personaggio di colore non c'è l'omosessuale quindi lo mettono però vogliono anche evitarsi le polemiche di chi va bene che c'è ma non voglio che faccia troppe cose quindi alla fine giocano in questa via di mezzo che può scontentare uno e l'altro ma alla fine permette che il film venga visto senza nessun problema insomma. Bene allora qui ho fatto una citazione abbastanza articolata del film il sorpasso il sorpasso che è uno dei capolavori della commedia all'italiana che ha al suo interno una battuta abbastanza abbastanza pungente di Bruno il protagonista interpretato da Gasman. Allora c'è questi due personaggi Bruno il maturo che sa vivere che in qualche modo cerca di educare Roberto che è un po' più anche bamboccione un po' più ingenuotto arrivano in una casa di campagna in cui appunto dove era cresciuto Roberto e appunto presenta il personaggio di occhio fino che prende il fattore di questa tenuta. Dalla dice occhio fino sapessi quante volte rivolgertosi a Bruno sapessi quante volte mi ha tenuto in braccio e lo credo non aveva mai visto una non avevo mai visto una checca di campagna dice Bruno Roberto ma che dici e Bruno non mi direi che non lo sapevi è così evidente e poi scusa secondo te perché lo chiamavano lo chiamano occhio fino e Roberto così per sovrano Bruno ma che sovrano occhio fino fino è chiaro quindi emerge come la critica sociale verso questo personaggio che è notoriamente preso in giro e soltanto il personaggio di Roberto non se n'era mai accorto non solo che non fosse omosessuale ma che in qualche modo non non avesse neanche quella caratteristica di presa in giro diciamo latente che appunto solo Bruno riesce a evidenziargli che è tale e quindi questo è molto interessante anche della percezione auto percezione e siamo sempre nel 62 quindi diciamo che ancora c'è una certa come diciamo raffinatezza passami il termine nel del trattare questi argomenti vero verissimo assolutamente vero allora arriviamo a Ben Hill guarda Ben Hill faccio faccio parlare te faccio parlare te ma sai che non sapevo che fosse iniziato nel 55 io credo sia una roba degli anni 70 addirittura no perché noi l'abbiamo visto almeno tu sei più giovane di me lo vedevamo al drive in so che mi ricordo che tu non mi ricordo in quale in quale video parlavi di come a me il drive in non mi ha mai fatto ridere io sono del 85 e drive in non l'ho mai visto dopo io lo dava Italia 1 tipo Bertoluna le due una roba del genere era tipo riempiti era tipo riempiti come dopo sarebbe stato coso Mr. Bean per capirci sì 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 l'umorismo è molto sì l'umorismo è molto simile ma Mr. Bean è molto più accollato rispetto a all'atteggiamento veramente sguagliato di Ben Hill ma il fatto Ben Hill show andava in un orario tipo prima dei cartoni animati andava in un orario qualunque per famiglia nessuno si preoccupava minimamente della cosa assolutamente io mi ricordo che si rincorrevano con queste donne che rimanevano mezze svestite insomma peraltro ricordo di aver visto anche degli spezzoni di dietro le quinte in cui talvolta lui andava anche un po' oltre e c'era chi si lamentava perché va bene fare la scena così perché così ma si allunghi un po' troppo le mani allora mi va un po' meno bene e si supera quelli che sono i livelli della scena è incredibile oggettivamente una cosa del genere perché è quasi come se da una parte ci fosse una grossa censura di certi temi e una morale che doveva essere assolutamente puritana e poi dall'altra parte improvvisamente mantenendo la morale sempre a quel livello però si andasse nello scollacciato come dire vabbè una volta che siamo nello scollacciato si può fare quello che si vuole non c'è più nessun problema è incredibile questa doppia valenza per carità è ovvio che teoricamente magari erano riferite a persone diverse però tanto per fare un esempio a me viene in mente che all'inizio degli anni 90 Mediaset mandava in onda in orario in cui dei bambini potevano vederlo il Benny Hill Show senza nessunissimo problema ma nello stesso tempo prendeva un cartone animato come Sailor Moon che andava in onda negli stessi orari e che nell'originale parla molto di amore, sentimenti anche ad esempio in ambito omosessuale ma in generale amore e sentimenti di giovani e donne e lo stravolgeva completamente nei dialoghi proprio per nascondere tutti gli aspetti tra virgolette da grande quindi ti posso far vedere un uomo che insegue una modella mezza nuda o sottolinea il fatto che ha un décolleté gigante ma poi non posso parlare di sentimenti perché mio Dio ti sciocco il bambino e la sua morale è incredibile come cosa Sì, diciamo che abbiamo vissuto soprattutto tra gli anni 70 e 90 una doppia morale come hai detto tu in cui non a caso appunto io il Benny Hill me lo ricordo dentro dentro il drive-in negli anni 80 che era la fiera delle maggiorate o dell'elemento diciamo di davanti abbastanza pronunciato e quindi in qualche modo e tra l'altro anche di una certa critica e qui non l'ho messo ma ci sono scene di Benny Hill anche nei confronti di disabili in cui appunto vengono oltre al fatto del battere la testa all'anziano senza capelli che diventava un tormentone ma che diventava anche un elemento appunto di bullismo cioè oggi lo chiameremmo bullismo uno che inizia a battere la testa a uno perché non ha i capelli o cose del genere o prendersela con la persona in carrozzella o in qualsiasi altra tipologia di disabilità diciamo di qualsiasi tipo quindi questo discorso che fai tu è particolarmente anche sintomatico di come c'è stato un passaggio veramente contraddittorio in cui c'erano dei tabù su cui non si poteva parlare e invece un elemento proprio di libertà completa nei confronti di un altro tipologia di elemento sessuale tradizionale appunto l'uomo che corteggia la donna anche in maniera eccessiva è normale perché in qualche modo se lo può permettere l'elemento invece di trasgressione passami il termine rispetto ai canoni diciamo tradizionali invece andava in qualche modo censurato andrei avanti ecco questo ti tocca in prima persona parla tra l'altro l'hanno fatto stamattina l'hanno fatto stamattina su Rai Movie e me lo sono rivista questa scena in cui appunto a parte che dobbiamo appunto ringraziare le leggi contro il fumo degli ultimi anni che in qualche modo ci diciamo almeno io non fumo e in qualche modo ci tutelano la salute in qualsiasi contesto ma vedere dei film in cui si fumava al cinema fino a 40 anni fa per dire o addirittura come questo il medico della mutua in cui in un ambulatorio di medico non solo si fumi ma lo stesso medico che offre la sigaretta alla paziente dicendo la paziente dice posso fumare prego anzi guardi gliene offro una io benché come medico non dovrei allora lei crede proprio che il fumo faccia male e ci credo sì tutto fa male la vita fa male signorina però famosi una fumata che in qualche modo che poi la cosa comica è che in realtà la signorina è una prostituta e la scena non so se tu l'hai vista sì sì praticamente diciamo Alberto Sordi che accoglie questa paziente chiamiamola così perché c'è uno sciopero e quindi dovrebbe farla pagare poi alla fine questa si spoglia subito ci sta consumano e alla fine è lei che chiede la parcella a lui rispetto e dice vabbè ma non te pare poco ma saprei che sei in sciopero però almeno 10.000 lire me le devi da quando era lui che gli aveva chiesto 5.000 per la parcella della visita e quindi è interessante questo elemento anche di del fumo tu come medico anche cosa ci puoi dire magari con esperienze di tuoi colleghi più anziani che hanno vissuto il periodo in cui magari si fumava all'ospedale non lo so non esiste più perché tu calcola che ormai chi è più anziano è gente che ha iniziato a lavorare comunque negli anni 90 inizio 90 quindi ormai erano altri tempi allora posto che il medico della mutua è un film meraviglioso un monumento alla cos'era la medicina all'epoca cos'era l'organizzazione della medicina visto poi dall'interno ancora meglio diciamo che era un'epoca in cui da una parte si sapeva già che il fumo facesse male nonostante le grandi case produttrici lo cercassero di nascondere non era ancora così ribattuto ma in realtà a livello scientifico si sapeva benissimo non si sapeva quanto facesse male ma che facesse male lo si sapeva diciamo che era ancora un periodo in cui secondo me tanti la prendevano come dire e vabbè fai un po' cosa vuoi che è sempre un po' un'evoluzione della medicina si arriva a capire che magari qualcosa fa male ma prima di che la cosa entri un po' bene nell'ottica ci va del tempo ad esempio si sa da 40 anni che mangiare troppi grassi fa male però prima che si arrivasse a pensare che l'obesità potesse diventare un problema ci è avuto tanto tempo lì erano persone che erano magari uscite dalla guerra avevano fumato tutta la vita e non è che potevano smettere da un momento all'altro siamo arrivati dalla parte opposta in cui forse non in Francia ci sono certi paesi in cui non possono comparire le sigarette in dei film forse per i minori o cose del genere c'è un limite d'età sotto il quale non spostano essere viste delle sigarette nei cinema e addirittura so che è capitato di ripeto non mi ricordo in che paese che volendo trasmettere dei film vecchi tipo Casablanca dove fumano tantissimo ovviamente il film era limitato solo a una certa età ma anche per poter esporre il cartellone metropolitana dove ovviamente c'era la pubblicità di questo evento dovevano togliere le sigarette perché altrimenti non avrebbero potuto far pubblicità con uno che fumava ma era il cartellone di Casablanca cioè è incredibile non è in questo modo sicuramente che lotti contro il fumo ci sono mille modi migliori ma il discorso di prima è molto più facile far passare un messaggio semplice vieto tutto che iniziare a intavolare una qualunque una qualunque forma di discussione è un po' il discorso di Ben Hill che tu dicevi giustamente è un modo per far passare una certa sessualità scollacciata semplice anche organizzata è un discorso per bambini cioè piuttosto di farti ragionare di arrivare a fare un discorso in più mi fermo alla cosa più semplice che posso darti quindi vuoi vedere vuoi che parliamo di sessualità te ne parlo tirandoti fuori due tette e una donna mezza nuda fine tutto lì poi il resto te lo risolvi da solo e qua un pochettino è anche quello poi posso dirti a me per primo è capitato alle volte in ambulatorio che arriva tipo la moglie che mi dice il marito eh lui fuma dovrebbe smettere di fumare io gli dico è vero guarda se non smette di fumare rischia tra dieci anni di non riuscire più a fare le scale di stare attaccato all'ossigeno o ben più grave rischia che non gli funzioni più la virilità così usiamo questi bei termini però poi detto questo ognuno è libero di morire come vuole insomma quindi insomma però sì erano altri tempi da questo punto di vista e qui la medicina ha finito di parlare nel senso è Cassazione nel senso io ti posso dire come curare se ti vuoi curare se non ti vuoi curare il problema è il tuo diciamo che non ci può essere l'accanimento terapeutico andiamo avanti andiamo avanti questo è un film che ho visto recentemente non l'avevo mai visto un uomo da marciapiede in cui appunto c'è questo giovane texano che vuole cambiare la sua vita e va a New York e vuole fare il gigolo a New York perché dice tanto c'è mercato perché pare che a New York tutti gli uomini siano finocchi quindi in qualche modo le donne devono essere alliettate in qualche modo io sono disponibile e troverò donne che mi pagano perché in qualche modo c'è questa realtà e questo è un fenomeno che vedremo anche dopo in altre in altre pellicole e quindi entriamo anche nel discorso di competizione tra io che posso offrire un servizio che comunemente non viene offerto perché a New York sono tutti così sì questi sono già film che cambiano un po' l'obiettivo cioè un uomo da marciapiede non è già il film per tutti è già un film un po' più di sé ed è ovvio che iniziano a introdurre gli argomenti in un altro modo poi ovviamente anche lì in maniera diversa perché altrimenti li avrebbero uccisi però sono già film di un altro livello che insomma puntano su cose più per capire come c'è un linguaggio anche abbastanza cioè molto esplicito in cui dice c'è quello e ci sono io poi diciamo nel film poi tutta questa tutta questa possibilità di lavorare nell'ambito gigolò non è che a John Voight diciamo gli va bene quindi in qualche modo diciamo ha fatto mali calcoli diciamo in qualche modo non è che potesse andare non è che erano tutti così a New York diciamo è impressionante cioè l'uso del termine finocchio se uno ci pensa ovviamente già all'epoca era insultante ma se avessero fatto dire al personaggio tutti gli uomini siano omosessuali cioè sarebbe sembrato assurdo sembrava il doppiaggio rifatto di Evangelion quello recente fatto da quelle cose che era incomprensibile uguale cioè è ovvio che se tu hai un personaggio in un film devi farlo parlare come si parla nella realtà e all'epoca probabilmente dicevano quello oggi magari gli avrebbero fatto dire la stessa cosa in un altro modo e la parola omosessuale in bocca non sarebbe sembrata strana la lingua evolve poi a volte evolve in maniera oscena perché in America ci hanno fatto anche dei pezzi comici iniziano a considerare il termine obesità come offensivo quando obesità ovviamente è il termine tecnico per definire una cosa però è ovvio che la lingua evolve e il cinema deve un po' seguire la lingua perché altrimenti sembra strana e cioè se non puoi far parlare in maniera forbito un cowboy ignorantone del Texas che fa un viaggio del genere per andare a New York e poi giustamente come dice Pornica e Dio cioè questo è un film quello che dicevo prima di forte rottura cioè che per l'epoca era qualcosa di importante anche lì lo riduci a qualcosa che oggi non faremmo più in questo modo stai togliendo un pezzo non degli insulti agli omosessuali ma di come progressivamente si è iniziato a parlare della cosa cioè stai togliendo un pezzo a chi ha cercato di migliorare le cose è ovvio che poi dovesse essere graduale insomma sì 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 io l'ho scelto per appunto far diciamo trovare dei diciamo un linguaggio che a vederlo oggi ripeto io non l'avevo mai visto l'ho visto recentemente e mi ha colpito particolarmente nell'uso di una parola che ovviamente nel 69 aveva una sua collocazione anche culturale diversa ovviamente ma adesso andremo a vedere anche altri esempi di anni abbastanza vicini a questo in cui appunto una serie di parole poi hanno preso una strada che ripeto oggi sarebbe impossibile da accettare ma che in quel momento specifico in un certo anche substrato culturale aveva un suo significato perché era utilizzato in quel modo ecco ho trovato il film la polizia ha le mani legate in cui appunto nel 75 ho trovato due film che utilizzano la stessa lo stessa parola aveva gli occhi come un mongoloide ma non era mongoloide nel senso che diciamo e fa il paio con aspetta ve lo trovo subito nell'81 io mongoloide di Mongolia tu mongoloide di malattia e questo è Thomas Millian in delitto al ristorante cinese quindi come anche l'elemento della 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 patologia non so clinicamente con la è una sindrome ok perfetto di per sé mongoloide in realtà ha solo tratti caratteristici dei mongoli è diventato poi insultante perché è stato utilizzato in altro modo ma di per sé non è un termine insultante ok sì sì però appunto diventa diventa l'accezione per etichettare tutti coloro che hanno la sindrome di Down quindi diciamo che diciamo e ovviamente qui è utilizzato è utilizzato in maniera offensiva in maniera appunto qui c'è una battuta abbastanza di da caserma come in quell'altro discorso di la polizia alle mani legate in cui appunto ha un'accezione che in qualche modo lo vuole caratterizzare a livello fisico ma c'è anche un substrato di offesa gratuita nei confronti del personaggio di cui si sta parlando però sai quello che dicevi prima che c'è momento e momento modo e modo di per sé se io dovessi definire una persona affetta da sindrome di Down che dovunque nel mondo hanno caratteristiche molto simili questa curiosità particolarità per cui i malati di Down alcune caratteristiche simili non si può definire dal punto di vista tecnico in maniera diversa il taglio degli occhi che molti assumono da taglio degli occhi di tipo mongoloide è una cosa tecnica che in un contesto tecnico non è insultante ma nel momento in cui lo usi in modo insultante lo diventa anche quello che dicevamo anche prima di dire certe cose a seconda dell'ambiente in cui le dici e il modo in cui le dici possono essere insultanti oppure no insomma mi viene in mente il termine spastico penso che sia una parola tecnica in clinica nella tua professione quello è spastico nel senso che c'è un problema non ha nessun elemento di derisione o di insulto se esco di casa e c'è uno che mi supera malamente gli dico ha spastico e in quel senso ovviamente ha un elemento di insulto rispetto alla comune accessione lessicale del termine clinico quindi diciamo anche in questa cosa infatti c'era Luigi che ci dice un ricordo personale quando facevo le elementari e le medie anni 90 il termine mongoloide era la regola ma come immagino come insulto come insulto o insulto o anche nei confronti di coloro che avevano la sindrome di Down io ricordo quando ero bambino si diceva giochi elastici per bambini spastici era proprio un modo di dire perché era un gioco stupido beh non lo si diceva magari neanche con cattiveria perché non non so neanche di cosa stavi parlando perché era entrato talmente nel comune linguaggio ovviamente che il bambino lo sente e non dà una sua accezione negativa lo ha sentito e lo ripete senza malizia perché semplicemente l'ha ascoltato e sentito più volte da un genitore o da un adulto in genere allora un altro tema su cui abbiamo anche parlato con Gioele per preparare questa questa diretta è come a determinati temi possono essere accettati o qualche modo c'è una una modalità di immunità se è lo stesso componente di una determinata minoranza o gruppo che fa umorismo sulla propria sul proprio gruppo e questo è un tema su cui io mi sono dibattuto molto molto spesso come tra gli anni settanta e gli anni ottanta vi sia una serie di autori sceneggiatori registi attori ebrei che affrontano il tema della un umorismo sugli ebrei tipo quello è tirchio ma se lo dice Woody Allen ha una sua accezione tollerabile o se lo dice Mel Brooks o se lo dicono Zucker Abraham Zucker sui elementi di rapporto anche diciamo di 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 rapporto tra gli ebrei e altre comunità ovviamente è un tema molto caldo che oggi ci tocca in prima persona però è interessante come in quel in quelle due decenni tra gli anni tra gli anni settanta e gli anni ottanta vi fosse una libertà e questo lo vedremo poi dopo con Eddie Murphy che può fare umorismo sui neri e quindi in qualche modo è tollerato perché sono diciamo l'umorismo sugli ebrei Woody Allen lo permette un altro è un po' più difficile su questo tema è verissimo cioè in generale cioè chiunque può fare battute su se stesso sulla propria mia mettendo a volte anche in difficoltà chi ascolta io penso e può essere utilizzato anche per quello è vero che sto già parlando di persone di colore ma perché il ragionamento è quello quando nei film di tipo Pulp Fiction o comunque c'è Samuel L. Jackson che chiama negro le altre persone di colore è ovvio che è fatto per rompere quello che sta ascoltando perché percepisci che è un insulto ma lui lo può dire e in bocca a lui diventa qualcosa con un significato diverso tanto che poi sia anche diffuso perché so che negli Stati Uniti talvolta lì è inutilizzato con questa accezione ovviamente lo possono dire solo le persone di colore perché in bocca a loro non è un insulto insomma un esempio personale che riporta all'Italia ad esempio in termine terrone di per sé ovviamente insultante ma in Piemonte dove c'è stata una forte immigrazione tra chi della mia età è cresciuto con metà dei propri compagni che venivano che avevano nonni piemontesi e metà che avevano nonni calabresi campani o pugliesi ad un certo punto ha un po' perso questa cosa di insultante tant'è che tantissimi miei amici che hanno origini del sud talvolta lo usano loro per definire degli atteggiamenti esagerati sai tipo quella cosa che fanno in televisione il matrimonio napoletano queste cose qua è una terronata ma non lo si dice con un senso insultante e nessuno si stupirebbe mai di sentirlo anche in bocca a me perché sanno che non è volutamente una cosa insultante mi è capitato nel cammino di Santiago di conoscere un ragazzo di origine siciliana mezza siciliana mezza erlandese che viveva a Roma quando la prima volta mi è uscito così ma proprio nella maniera più assoluta tranquilla dire ah sta roba è una terronata è partito in quarta incazzatissimo voi siete razzisti ho detto ma ferma un attimo no perché da noi non ha nessuna valenza razzista ma ovviamente per lui che non aveva mai vissuto al nord aveva mai vissuto delle esperienze del genere era con l'idea lo dicono al nord per essere razzisti in realtà per quello la mia generazione ha già smesso di esserlo perché non lo percepiamo perché stai avanti stai troppo avanti tu già stai avanti l'hai già superato perché esatto le cose cambiano e quindi ci sono le persone che possono fare certe battute ci sono i tempi per fare certe battute a volte però il contesto io lì ho errato perché non mi sono reso conto che in quel contesto la cosa non era esplicita e rischiava di di far confusione insomma permettimi è un po' come fare le battute sui testimoni di Geova non sai mai se c'è un testimone di Geova dietro l'angolo e non ti poi permette di fare non so se c'è tra il pubblico era solo un esempio non volevo insultare no però è vero è verissimo in generale anche lì se io faccio una battuta che non ha un'avarenza veramente cattiva se però quella battuta non la vado a fare alla persona che la colpisce a meno che non la conosca molto bene è ovvio posso dire i testimoni di Geova si col campanello drin drin ma se conosco uno non glielo vado a fare a lui perché a meno che non siamo molto in buoni rapporti perché ovviamente è un insulto gratuito sì beh andiamo avanti allora qui ho voluto inserire anche una serie di film appunto tra gli anni settantina poi sono stati vari remake e vari seguiti che affrontano il tema della dell'omosessualità in maniera molto elegante cioè in maniera divertente ma sempre con un certo carbo e quindi diciamo che con anche nel periodo appunto tra gli anni settanta diciamo l'ultimo è il novantasei più mi distruzzo è il remake americano però diciamo i primi tre film quelli con Michel Serot e con Ugo Tognazzi sono fino anni settanta inizi anni ottanta che è lo stesso periodo in cui il tema dell'omosessualità è un tema di sessualità in cui si ride dell'omosessuale più di ridere con l'omosessuale influisce non poco soprattutto nel cinema italiano ma non solo quindi è interessante come nello stesso periodo vengono affrontate con una certa serietà passami il termine un certo rispetto ecco secondo me dei temi che in qualche modo appunto offrono una certa libertà ma secondo secondo me senza senza offendere non so tu l'hai visti questi film c'era ancora ho visto solo infatti ho scoperto il terzo non sapevo che esistessero tu l'hai svucato questo terzo sì tenendo erano ancora film in cui la caratterizzazione dell'omosessuale era ancora molto marcata cioè comunque l'omosessuale era quasi sempre ancora rappresentato passami i termini un po' come una checca isterica sotto certi aspetti forse anche per aiutare il pubblico a capire di cosa si stava parlando ma in cui hai ragione tu viene meno quella componente di cattiveria di violenza di condanna verso verso la figura è un passo è un passo in avanti è ovvio che necessita di avere un cervello acceso perché se io guardo le prime immagini di tutto questo dico ah stanno facendo la solita satira sull'omosessuale che va in giro vestito di rosa girando una borsetta devo vedere il film per riuscire a capire che c'è qualcosina in più oltre quello insomma sì però volendo si è riusciti anche negli stessi anni in cui delle battute di prima adesso vedremo come e arriviamo subito a vanzina tanto per dire i cinepanettoni che hanno avuto quasi la loro ragion d'essere la loro ragione di umorismo sull'elemento di ambiguità sessuale di libertà sessuale corna e chi più ne ha più ne metta e infatti questo l'abbiamo già visto qui c'è il discorso di il barchese del grillo che abbiamo accennato prima tu sei giudeo e i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato il nostro Gesù di Cristo possa essere ancora un po' uncazzato e con questa io non te pago a Ronne Piverno e abbiamo risorto il problema e quindi qui emerge in maniera ovviamente molto umoristica ma torniamo sempre al discorso di prima in cui c'è anche un radicamento della dell'antigiudaismo del concetto che in qualche modo torna e purtroppo torna anche in tempi in tempi recenti quindi è un elemento interessante da registrare anche attraverso dei film però se ci pensi in quella scena anche che alla fine sono quelli negativi sono i principi cardinali e che lui paga per non farsi condannare e dando la colpa all'altro quindi sì 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 è interessante anche come si vada un po' a rovesciare la situazione però è interessante come in prima battuta io ci metto il carico dice vabbè ma tu hai ucciso Gesù Cristo quindi in qualche modo sei esoso sei da condannare punto e basta quindi un pregiudizio tu cura andiamo avanti sai cos'è se posso è che le battute tante volte hanno bisogno di velocità se io ti devo prendere un personaggio spiegartelo e poi farci la battuta tu non ridi più se io prendo questo personaggio e te lo caratterizzo fortemente come un ebreo nel momento in cui lo vedi in realtà stai forse all'epoca più di oggi che chi guarda capisce dove vuoi andare a parare e capisce tutto il dopo e non me lo devi già ridi già ridi solo a vederlo non ridi però sai quali sono le sue caratteristiche per così dire particolari cioè è come se io voglio fare un personaggio che mangia tantissimo per carità posso anche farlo magro e alto magari mangia tantissimo ma se è così devo far vedere che mangia tantissimo devo dirlo se invece prendo un personaggio che pesa 160 kg non devo dire nulla è già un personaggio che mangia tantissimo e la battuta viene più veloce e più una battuta veloce più arriva pulita più fa ridere e quindi certe cose secondo me sono anche un po' obbligatorie per così dire bene andiamo avanti allora qui appunto ci dicono anche che tra l'altro oggi è il compleanno di Eddie Murphy cioè ci dicono ecco non per due oggi la fortuna per due scusa oggi è il compleanno di Eddie Murphy quindi facciamo intanto gli auguri a Eddie Murphy non so se ci ascolta e come appunto il discorso ciao Eddie auguri come il discorso di prima dell'umorismo sugli ebrei fatto da ebrei in qualche modo si inserisce appunto io non ho non ho non ho inserito nulla su Samuel Jackson però anche lì è molto interessante come giustamente detto sono fenomeni molto simili in cui in cui c'è questa attitudine a diciamo inserire un tipo di battute che possono sembrare offensive per tutti tranne che se le dice un personaggio un attore di colore quindi questo cioè particolarmente peculiare e secondo me anche peculiare degli anni Ottanta diciamo in questo in questo decennio in cui l'elemento diciamo di differenza etnica è particolarmente è particolarmente sentita non che dopo non lo sia o prima non fosse stata però in qualche modo è un decennio di evoluzioni di cambiamento e però queste cose vengono in qualche modo anche espresse in modo diverso e proprio stamattina ci riflettevo non ci avevo pensato quando ho fatto queste slide cioè nel film il primo in piedi piatti a Beverly Hills quando Eddie Murphy prende in giro Serge che è il diciamo il commesso il lavorante della galleria d'arte che è evidentemente omosessuale e che appunto lo prende in giro perché fa il caffè con la strizzatina di limone quindi quando glielo rifà con la strizzatina di limone quindi qualcosa diciamo abbastanza abbastanza pungete e tra l'altro una cosa curiosa che in quel film Serge non so se chi se lo ricorda magari andatelo a rivedere è doppiato da Marco Guadagno che è un grandissimo doppiatore veramente ha fatto una marea di cose e negli stessi anni doppiava Puffo Quattroocchi quindi voi pensate il doppiatore di Puffo Quattroocchi che faceva in maniera efficace il personaggio di Serge omosessuale in piedi di atti a Beverly Hills quindi è interessante come appunto anche la capacità di voce dei doppiatori italiani possano rendere molto pensiamo appunto a Eddie Murphy che è stato per decenni doppiato da Tonino Accolla prima di morire Tonino Accolla che ha fatto anche Homer Simpson per dire degli elementi particolarmente anche di valore rispetto alla tipologia di voce che gli viene data nella versione italiana che ha inventato la ritata di Eddie Murphy esatto esatto quanto i doppiatori italiani il difetto del doppiaggio e non abbiamo poi delle carenze nella conoscenza per esempio della lingua inglese perché abbiamo i fin doppiati però diciamo che la scuola del doppiaggio italiana forse non è seconda a nessuno ma guarda due cose a parte il fatto che mi è venuto in mente che anche nei Puffi c'era il personaggio omosessuale Puffo Vanesio che era palindemente omosessuale hai ragione hai ragione hai ragione no io faccio mi viene in mente annetto che giustamente hai detto in questi film certe cose razziali si possono fare perché i personaggi di colore soprattutto nel principe cerca moglie nelle scene iniziali quando si mostra questo regno africano potrebbe essere di un razzismo incredibile il modo in cui viene mostrato delle cose assurde in modo in cui si vettono eccetera però ovviamente funziona perché c'è lui però io penso anche questo questi film sono degli anni 80 penso a un film tipicamente anni 90 in cui c'è un personaggio di colore alternativo come Men in Black genere completamente diverso ma con Will Smith quando in Beverly Hills si vuole mostrare il fatto che lui è alternativo rispetto agli altri quindi lo sfigato che riesce a farcela si butta molto sul fatto che lui è di colore e viene rimarcata questa cosa in Men in Black quando lui viene preso nei Men in Black in tutti i ricordi c'è la scena in cui fa il test eccetera come no come no non viene più rimarcato il fatto che è di colore ma il fatto che viene dalla polizia è meno addestrato viene da un substrato più povero quasi come se negli anni 80 il problema fosse quello razziale e si gioca su quello negli anni 90 fosse più un problema economico e si gioca invece sul problema economico e secondo me questo mostra poi per carità magari una scelta degli autori però in generale si svolta verso l'outsider che non è outsider per la sua origine razziale ma è outsider perché ha compiuto meno studi ha dovuto lavorare eccetera eccetera è un cambiamento sì 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 questo sono d'accordo infatti molti esempi di quelli che appunto poi ho scelto per questa selezione si concentra sugli anni 80 gli anni 80 sono convinto che è stato veramente un decennio di trasformazione sociale vuoi anche per l'ingresso delle tv commerciali di una serie di anche prodotti commerciali che venivano dall'estero fino agli anni 70 che c'era il monopolio della Rai molti prodotti erano tipicamente italiani fatti per famiglie italiane con un certi canoni per carità il cinema l'abbiamo visto era molto più aperto però per esempio anche appunto la diffusione televisiva dei film in qualche modo ha portato a un allargamento di istanze di esigenze di problemi appunto abbiamo visto come l'elemento del nero tra gli anni 60 almeno io ho trovato una carrellata ma abbastanza rapida ma nel cinema italiano c'era molto meno abbiamo visto come nei primi anni 50 c'è un tipo di analisi appunto retaggio anche del periodo coloniale del periodo precedente e adesso emerge ma diciamo con una crescita una crescita anche sociale appunto i personaggi di Eddie Murphy sono personaggi che riescono che emergono il principe le principe quindi in qualche modo già era benestante anche a casa sua come si suol dire andiamo avanti anche perché in Italia le persone di colore ce ne erano pochissime e quindi io quando ero bambino credo che in Italia cioè non in un viaggio all'estero quindi ne facevamo tanti però in Italia la prima persona di colore posso averla vista dopo i dieci anni non ricordo in realtà io vengo da un paese in campagna però erano veramente altri tempi ed eravamo già negli anni 90 insomma quasi quasi mi viene la citazione di Vannacci che aveva visto a Parigi la persona di colore si era avvicinato per toccarla per vedere com'era ruvida scusami scusami il paragone scusami il paragone non ti scuso perché veramente veramente solo di fretta chiudiamo la diretta perché ho insultato Gioele con questo confronto no a parte i scherzi dicevamo c'è un commento io sì in questa carellata non li ho citati anche perché li conosco molto poco ammetto la mia ignoranza però diciamo so che i Monty Python erano particolarmente scorretti avevano un linguaggio un tipo di temi abbastanza abbastanza borderline quindi diciamo che c'è stato questo commento e mi sembrava giusto sì anche se ad esempio prima quando parlavi di dei film che parlano di ebrei uno dei loro film più famosi Brian Di Nazareth Life for Brian in realtà sugli ebrei li prendono in giro su cose diverse rispetto ai soliti cliché che ogni tanto un po' sbucano ma molto poco giocano più sulla divisione sugli scontri con i romani è proprio un altro approccio da quel punto di vista però sì sono ogni tanto molto scorretti ma più visivamente la fine di Brian Di Nazareth con questi uomini appesi con le croci che canticchiano non mi ricordo la canzone però molto gioiosa fa veramente molto ridere ma è molto scorretto sì sì diciamo che diciamo i Montipagno avevano anche un umorismo molto britannico e quindi in qualche modo diciamo è al di sopra della possibilità nostra diciamo ripeto adesso ci arriviamo no vabbè questa qui ovviamente si ricollega a quello di prima diciamo con le accezioni che giustamente hai magistralmente descritto nel tuo video appunto dove appunto c'è una certa confronto ma poi alla fine alla fine della fiera sarà il negro che ti frega quindi in qualche modo cioè hai fatti conti senza lost e quindi può essere un un disgraziato un 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 derelito e tutto quello là però alla fine si si rileva più furbo più furbo di te e poi comunque loro sono i personaggi negativi sono negativi e sono razzisti quindi è unito a loro essere negativo esatto e quindi devono pagare e come giustamente poi hai anche ricordato nel paradosso nel principe cerca moglie nonostante siano due contesti diversi in qualche modo trovano anche un certo beneficio perché riceveranno dai stessi due personaggi si chiamano si chiamano i Duke tutte e due diciamo riescono a ritornare in auge e torniamo al cinema italiano con una serie di film appunto in cui l'elemento appunto di derisione ma derisione anche abbastanza offensiva torna ricorrente e questo ho preso un fantozzi a caso se ne potevano citare tanti altri fantozzi subisce ancora ma non lo vedete che è un povero handicappato e quindi dove appunto il discorso è già se se la prende con qualcuno ma non lo vedete che già già doveva essere evidente che era che l'handicappato semplicemente perché è fantozzi quindi diciamo che qui non si sa se si prende in giro l'handicappato o si prende in giro fantozzi perché ha queste movenze quindi è un po' come il discorso di prima del del mongoloide quindi diciamo che è interessante anche capire a chi è rivolto l'insulta a chi è rivolta l'offesa boh non lo so tu come la vedi no verissimo verissimo fantozzi che peraltro io ho sempre trovato molto più cattivo il modo in cui viene descritto nei libri nei libri di villaggio c'è qualche differenza c'è fracchia al posto di filini però più o meno sempre li siamo secondo me è ancora più cattivo diciamo che fantozzi è uno di cui dicevamo prima cioè usa molto il linguaggio dell'epoca per essere cattivo nei confronti di fantozzi cioè è ovvio che quando vedi questa scena capisci che questa frase è insultante verso di lui ed è cattiva ma è un modo per rappresentare come realmente tutto questo sarebbe potuto succedere mi senti bene perché mi è partito la durazione io ti sento bene sì 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 buon perfetto andiamo avanti e qui arriviamo a Banzina e qui c'è un un trittico proprio da capogiro allora intanto il buon il buon Christian De Siga che lavora lavora a New York dice come va a New York e beh c'è la mafia giudea che vuoi è già una stilettata nei confronti degli ebrei poi questa è la tana di Ezechiele Lupo Vieni Porcellina e qui su Ezechiele Lupo ci sono dei ricordi di qualche mese fa di cui dopo torneremo l'elemento del lupo che in qualche modo diciamo può permettersi tutto nei confronti dell'altro dell'altro sesso e poi alla fine si scopre che il buon il buon figlio della famiglia benestante appunto è omosessuale e qui c'è anche uno scambio dice beh mi hai voluto mandare nel collegio esclusivo mi hai voluto in qualche modo e quindi in qualche modo sono diventato bisex moderno e quindi non ti puoi lamentare e questo è un po' sintomatico della situazione e subito ci abbinerei quest'altro che fa il paio vacanze in America sempre di Vanzina con grosso modo sempre gli stessi attori in cui visto che il fratello va in America dice portami qualche porno video con una negra con una tailandese basta che sia molto zozzo quindi l'elemento è è diciamo etnico è sempre qualcosa cosa di depravazione di 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 ruspante e appunto poi quando Jerry Calat va dal suo amico che non vede da anni che era denominato lo schiantatope scopre che in realtà è diventato omosessuale e forse in qualche modo si ricollega al discorso di uomo da marciapiede cioè New York ha una brutta ha una brutta nomea nomea nel nel discorso come come la vedi in questo contesto anni 80 di queste commedie molto nazionalpopolari che giocavano sulle battute semplici ma hanno continuato a farlo poi anche negli anni 90 nei 2000 cioè certe battute alla fine i vanzina per quanto magari un film possa piacere eccetera fanno ridere con della comicità molto semplice far ridere con le scorreggie con i doppi sensi sono livelli che per carità van benissimo perché poi si ride lo stesso ed è ovvio che quando rimani nel semplice a volte a volte finisci anche in queste cose perché fanno quello che dicevamo prima se io faccio una battuta su un omosessuale e ho davanti una persona che non è vestito normalmente parla normalmente eccetera devo spiegarla se ho davanti una persona che parla tutto così tesoro come sei frocia per dire è ovvio che la risata viene perché non è commedia dell'arte ma insomma più o meno sempre lì andiamo andiamo a parare e insomma quello è peraltro mi ha fatto un po' ridere la battuta di prima di quando lui dice frocio bisex moderno negli anni 90 avrebbe detto metrosexual insomma sì sì anche come l'evoluzione stesso del tipo di dizione può cambiare questa cosa che dici di New York peraltro in realtà è interessante anche dal punto di vista storico perché New York in realtà fino agli anni 80 è stato un perandi è stato un posto bruttissimo con criminalità alle stelle problematiche infinite insomma ed era vissuto anche così non pensiamo alla New York di oggi di cui tutti vogliono andare almeno una volta nella vita erano altri tempi insomma diciamo che il Bronx non era solo al Bronx era un po' e il Bronx era tutta New York assolutamente no assolutamente no ma si vede ancora nelle prime stagioni dei Simpson ci sono mi sembra due una puntata in cui Homer va a New York ed è preoccupatissimo perché dici io quando sono andato un'altra volta mi hanno derubato dopo un secondo cioè era proprio lì che è avvenuto il cambiamento negli anni 90 permettimi la battuta permettimi la battuta è un po' come da noi se uno dice non oggi a Napoli nel senso volendo essere vai a Napoli e ti derubano di tutto devi stare attento perché alla stazione te fanno ovviamente era una battuta non volevo era un paragone quando io sono andato a vivere a Torino per l'università nel 2005 quartiere centrale San Salvario era un posto dove di notte non dovevi girare ed è attaccato alla stazione poi l'hanno messo a posto è stato per dieci anni un posto dove ancora adesso la sera vai a mangiare bere adesso stai un po' degradando però lo è stato per anni le cose cambiano vanno sempre inserite nel momento certo che quando fai delle battute così semplici un grosso problema della comicità perché ti dicevo che il drive in a me non fa più ridere perché più è semplice la battuta più è legato al momento in cui viene fatta meno farà ridere all'infinito e questo è il caso forse anche di queste battute qua oggi magari non ti strappano più una vera risata rimani un po' un po' così sì diciamo che è legato molto alla nostalgia di chi l'ha vissuta io ti posso dire che sono andato recentemente a vedere per i 40 anni di vacanze di Natale la sala era piena piena zeppa e dove c'erano persone 40 50 anni che ripetevano le battute cioè dicevano le battute un attimo prima che venissero 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 pronunciate quindi in qualche modo diventa anche un elemento di nostalgia dei cosiddetti bei tempi che furono che poi in realtà bei tempi fino a un certo punto andiamo avanti allora qui ci ho messo i Goonies so che è un tasto per te particolarmente sensibile quindi lascerei a te due parole sui Goonies i Goonies se ci pensi è un concentrato oggi visto con gli occhi di oggi un concentrato di scorrettezza c'è un personaggio che è palesemente disabile come si chiama quello con la marita di Superman c'è il bambino Slot 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 bravo c'è il bambino Cicciotto che all'epoca c'era in tutti i film e che peraltro fa ridere perché oggi normalmente erano appena appena cicciotti cioè gli altri erano magrissimi loro avevano un filo di cicci erano considerati grassissimi oggi sarebbero la normalità più totale tutte cose che oggi non sarebbe più possibile fare ma è un peccato lo ce l'avevamo detti quando abbiamo iniziato a programmare di fare questa live proprio perché in realtà questi personaggi erano sempre positivi c'era un modo per dire per lottare contro certe diseguagliante cioè il bambino Cicciotto che mangiava poi magari era quello che però riusciva a sconfiggere i nemici io penso a Huck Capitano Uncino in cui c'era Carambola il bambino Ciccione che utilizzava questa cosa di essere grossi te l'ho messo te l'ho messo te l'ho messo solo per te Carambola Carambola che veniva utilizzato come una palla di cannone rotolava per buttare Giulia era una roba scorrettissima ma ti faceva sentire quel personaggio in maniera positiva era anche quello un modo per lottare contro gli stereotipi se li eliminiamo completamente standardizziamo tutti va tutto bene e alla fine poi non si lotta neanche più contro queste cose insomma bene allora questo l'abbiamo detto ah questa è veramente una sciccheria proprio una cosa per palati fini allora io non so diciamo Luciano De Crescenzo chi lo conosce per i film diciamo che Luciano Crescenzo era un tuttologo passava dalla filosofia all'utilizzo di internet per chi non l'avesse visto cioè su YouTube ci sono una lezione di di Luciano De Crescenzo che spiega internet nel 1995 e vi posso garantire che nel 1995 di internet non ne sapeva niente nessuno perché probabilmente internet era per pochi eletti e io mi ricordo che lo vidi questa video lezione in VHS da mia zia ed è uno spasso perché un sessantenne che spiega a dei ventenni come si usa internet oggi sarebbe folle la cosa del genere però è curioso anche di questo tipo di fenomeni come negli anni 90 ci potesse essere un sessantenni che spiega internet a un ventenni vabbè a parte questo Luciano De Crescenzo in questa pellicola il mistero di Bella Vista che sarebbe il seguito del del il così parlò Bella Vista c'è un siparietto con la sua la sua cameriera che si riferisce alla cameriera dei vicini e così dice dice è la cameriera dell'americano dice la la cameriera e allora Bella Vista che è un professore che comunque ci sa fare che è politicamente corretto è una persona altolocata dice non si dice cameriera si dice collaboratrice familiare sì è una collaboratrice familiare che fa la cameriera dall'americano è negra e non si dice nemmeno negra si dice donna di colore sì è una donna di colore negra che fa la cameriera dall'americano quindi alla fine in ogni caso non si riesce a trovare una quadra perché qualsiasi cosa uno possa dire in qualche modo incappa in un elemento di politicamente scorretto qui mi è sembrata particolarmente interessante nel prima di aprire bocca devi un attimo riflettere e cercare le parole esattamente che possano in qualche modo non offendere nessuno e siamo in 85 eh sì 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 non si dice più spazzino si dice esatto operatore ecologico beh io ti faccio ridere io ho fatto il corso ho fatto il corso da un medico di famiglia non ho ancora aperto da noi c'è una lotta infinita quando la gente dice medico di base cioè c'è della gente che te la prende sul personale come gli avessi ammazzato qualcuno della famiglia se lo chiami medico si dice medico di base si dice medico di famiglia o medico di medicina generale ma chi se ne frega non è un insulto è una cosa è un termine punto non è però oggi non si dice bidello il bidello si dice più il bidello si dice collaboratore vabbè dove era l'insulto cioè il problema è che chi ritiene che il termine bidello sia un insulto in realtà lo ritiene perché per lui il lavoro del bidello è insultante perché per me che il lavoro del bidello è un lavoro come un altro chiamarlo bidello non è un insulto cioè per me che essere medico di base non è insultante non è un insulto se vengo chiamato in questo modo è sempre un po' a volte si nasconde il modo in cui noi interpretiamo certe cose dicendo che sono gli altri a essere dispregiativi ci starei un po' attento su ste cose allora qui lascio a te qui proprio potremmo stare fino a domani diciamo dai scatenati ma non c'è molto da scatenarsi è una scena bellissima peraltro che fu in larga parte improvvisata dovevo addirittura rifare delle parti perché erano scoppiati a ridere di fronte a quello che diceva che ogni tanto per carità capita è ovvio che in questo contesto non darebbe fastidio secondo me neanche oggi secondo me perché è un contesto volutamente esagerato lui è il sergente esercito si esprime con un linguaggio sboccato secondo me non darebbe fastidio neanche oggi magari oggi il fatto che lui usi il termine comunista diremmo ma perché in mezzo agli insulti ci butta anche comunista cosa vuol dire questo termine insomma perché i termini i termini cambiano come diciamo prima evolvono sia quelli positivi che quelli negativi ho girato stamattina una recensione di c'era ancora c'è ancora domani della Cortellesi sì e a un certo punto per definire la famiglia mi è venuto di dire una famiglia proletaria e poi ho proprio detto ma oggi proletaria non si usa più è un po' brutto termine si usa il termine povera che però vuol dire in realtà qualcos'altro e non si usa più il termine proletaria che era un bellissimo termine ed è un peccato a volte certi termini a distanza di anni non li capisci più non capisci più le eccezioni in cui venivano venivano detti insomma sì effettivamente perché si decontestualizza anche il il linguaggio nel senso si si evolve ma questo è anche determinato da una da una povertà del linguaggio il fatto che l'italiano che ha delle innumerevoli parole particolarmente azzeccate particolarmente anche belle da sentire ma che poi vengono sostanzialmente ignorate perché perché si usano parole diciamo alternative o per semplicità appunto un elemento povero è un un elemento più più facile da capire rispetto a a proletario che già devi avere un attimo di concetto proletario perché ha solo la parole quindi significa solo i figli cioè io credo che se parli a a dei degli adolescenti che non abbiano magari ancora studiato diciamo l'elemento storico filosofico del proletariato dell'ottocento di Marx eccetera dico ma che proletariato che vuol dire cioè non lo capirebbero neanche immagino penso però aveva aveva in sé un concetto comunque di onestà di persona che povera ma lavora di rispetto di dignità di dignità 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 nonostante la povertà nonostante quello che dicevamo andiamo avanti allora questo l'abbiamo detto allora qui ho voluto inserire questa 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 scena questo elemento perché io me la ricordo me la ricordo in diretta io che all'epoca avevo 12 anni sì 12 anni io che sono cresciuto a livello adolescenziale con non è la Rai non me ne pento tra l'altro lo facevano vicino a casa mia qui neanche un chilometro quindi mi capitava di andare anche ad aspettare le ragazze fuori dagli studi sperando in un autografo in qualche in qualche cosa e Antonella Elia che faceva appunto in quella circostanza la 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 giratrice di 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 Cruci Verbone a un certo punto sbotta era in diretta quindi diciamo non era preparato ed io sembro sempre un'andicappata perché evidentemente non era riuscita a girare bene a capire quale quale casella dovesse girare ovviamente questa cosa poi ha realizzato che la frase la parola era inopportuna e scoppia in lacrime tant'è che appunto la 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 buona accorti l'ha dovuta un po' diciamo come si dice confortare l'ha dovuta consolare per questa espressione poco felice ripeto in una realtà televisiva particolarmente vista quindi però è interessante come appunto vi siano delle delle parole che si sapeva che non bisognava dire perché appunto non era se no non avrebbe avuto questo tipo di 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 scatto di di pianto però appunto venivano utilizzate anche in televisione quindi questo secondo me è interessante di come dicevo negli anni 90 cambia qualcosa si percepisce che non è non è lecito dire qualsiasi cosa beh da questo punto di vista un po' ha funzionato perché certe cose sono uscite dall'uso comune io non ho mai sentito dire a uno meno di 30 anni usare il termine handicappato in senso tra virgolette dispregiativo sono scemo sono si usano altre espressioni da questo punto di vista quindi questo in effetti ha funzionato certo all'inizio è una forzatura non si può fare diversamente che però d'altronde comunque ogni volta che noi usiamo un mezzo diverso facciamo una forzatura se io scrivo una lettera commerciale una lettera alla mia asve non è che mi esprimo come mi esprimo con mia moglie per dire cioè ovvio che usiamo modi diversi registri diversi e anche qui e questo devo dire in effetti un po' ha funzionato la allora qui ci chiedono chi era la ragazza in gabbia era Flavia Vento un altro un personaggio proprio dalle mille dalle mille che sarà pure candidata alle elezioni vabbè lasciamo lasciamo perdere e qui arriviamo a un'altra questa la vorrei la vorrei che la commenta visto che si parla di un medico commentala tu commentala tu meraviglioso ma io posso dire che io ho sempre detto che secondo me Berlusconi avesse fatto il barzellettiere l'animatore avesse presentato programmi sarebbe stato bravissimo cioè non si allora le battute di Berlusconi sono storicamente sempre state scorrette inopportune ancora più inopportune se si pensa che magari le faceva in contesti ufficiali in cui lui rappresentava l'Italia o erano talmente scorrette che non potevano non far ridere questa è particolarmente brutta e cattiva per carità anche perché va a colpire persone malate di AIDS cioè non colpisce gli omosessuali colpisce una persona malata di AIDS che ha una malattia per carità insomma però c'è niente da fare aveva le capacità per raccontare bene i tempi comici meravigliosi però era un uomo fuori dal suo tempo cioè probabilmente avesse fatto queste battute negli anni 80 cioè negli anni 80 avevamo De Michelis che faceva i libri in cui consigliava le 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 migliori discoteche nessuno se ne stupiva però negli anni 2000 la cosa iniziava a essere fortunatamente un po' tonata era un uomo da questo punto di vista fuori dal tempo e fuori anche un po' forse dal lavoro che avrebbe dovuto fare insomma cos'altro si può dire qui ci dicono che Silvia aveva un team di consiglieri per le barzellette ma no secondo me le sapeva raccontare cioè io sono proprio i tempi perché la barzelletta non è solo raccontare cioè io se ve la leggo questa cosa non fa ridere se ve la leggo con una certa voce la barzelletta è modo di raccontarla è la faccia il sorriso che parte subito dopo i tempi con cui la racconti è su quella la mimica la gestualità sì cioè quello era bravissimo c'è poco da fare ci manca soprattutto per quello anzi solo per quello possiamo dire allora hai presente quella scena quella volta che è andato da Santoro ti era appena alzato travaglio dalla scena ma quella è genio allo stato puro cioè genio impiegato per una roba che non era il suo lavoro per carità ma quello è genio quello è un tempo quello non glielo può aver detto nessuno lui è arrivato ha detto faccia sta scemenza e secondo me c'ha anche guadagnato dei punti alle elezioni con sta scemenza qua fatta perché però insomma però faceva il presidente del consiglio e non era quello il caso esatto non era proprio quello il mestiere giusto allora Borat con anche seguiti e controseguiti anche qui ti lascerei lascerei a te un commento siamo quasi in chiusura perché Gioele deve andare via quindi diciamo che altri 5 minuti altri 5 minuti e poi lo lasciate allora Borat Borat è la quintessenza ovviamente della scorrettezza perché è peraltro questo film che è a metà tra il girato il fatto in presa diretta come fosse una candid camera in cui lui da eccessivo perché è palesemente ultra eccessivo peraltro Sasha Baron Cohen è ebreo fa un sacco di battute con gli ebrei in Borat sostanzialmente dice che gli ebrei sono dei topi ne dice di ogni colore e lui lo può fare perché è ebreo quello che però quando uno guarda Borat noi percepiamo la scorrettezza la cattiveria e il fatto che lui vada in realtà ad attaccare certe incongruenze all'interno del mondo occidentale dell'America in cui lui va è stato vissuto invece in Kazakistan perché lui dice di essere originario del Kazakistan come un gigantesco insulto verso di loro perché lui presenta il Kazakistan come un posto terrificante un girone infernale in cui sono poverissimi non hanno niente fanno sesso con gli animali cioè delle cose terrificanti noi non l'abbiamo percepito come insultante perché noi capivamo che in realtà la critica non era verso il Kazakistan lui aveva detto Kazakistan ma poteva dire in qualunque paese del mondo ma la critica era verso il sistema statunitense là lo hanno vissuto in una maniera diversa perché a volte non ci si rende conto di come una cosa può essere interpretata una volta tu producevi un film in America quello finiva in America oggi finisce in Kazakistan dove possono dire mi stai prendendo in giro che ne so io non credo che Nin come si chiama il film di Ridley Scott sui House of Gucci ah guarda mi hai tolto le parole di bocche perché mi ricordo la tua recensione mi è piaciuta tantissimo sì 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 questo io non credo che House of Gucci aveste di base un intento denigratorio verso gli italiani ma il modo in cui è recitato il modo in cui viene rappresentata l'Italia per noi è denigratorio perché è una presa in giro cioè imitano maldestramente il nostro modo di gesticolare parlano con accenti inverosimili è sembra una presa in giro ma io non credo che Ridley Scott volesse fare una presa in giro dell'Italia in quel film ma purtroppo oggi soprattutto questi film di larga diffusione dovresti pensare a tutte le possibili varianti e rischi poi di non fare nulla perché a quel punto qualcuno prima o poi lo scontenti insomma per forza andiamo avanti siamo quasi per finire allora sì qui con Calderoli un'altra battuta della televisione perché appunto era in un comizio eccetera e mi ha ricordato la battuta di Totò del 50 quindi come l'ho inserita perché e poi vedrete l'ultimo ulteriore che ho inserito come in qualche modo c'è una comicità fuori dalle righe anticonvenzione diciamo scorretta che in qualche modo rimane nel linguaggio diretto che può essere della politica della divisione eccetera che in qualche modo però appunto ha una sua è diventata con un connotato molto offensivo perché dicevamo se la battuta dell'Orango e del senatore della Somalia nel 50 poteva in qualche modo rimanere in un contesto di ridere e basta qui ovviamente ha un elemento solo offensivo perché voleva offenderla non è che voleva in qualche modo fare una battuta una battuta goliardica poi nel 50 nel 50 attraccava il controllore stupido che non lo cattiva qui è un insulto rivolto verso di lei qui non c'è una battuta questo è un insulto cioè chi ha riso questa battuta in diretta io lo dico un cretino perché una cosa del genere deve darti fastidio doveva darti fastidio nel 2013 probabilmente dava già fastidio negli anni 80 dire a una persona di colore sei una scimmia cioè ridiamoci che questa è follia questa è stupidità Calderoli credo sia anche un medico tra l'altro Borghezio ho scritto scusa forse addirittura no è Calderoli che è un medico anche la Chienge non è oculista la Chienge oddio adesso mi prendi no no mi sembra che la Chienge sia oculi quindi siamo tra insomma chi si insulta tra colleghi purtroppo la tua categoria non sempre fa una una bella figura anche in questi contesti ti ricordi la famosa nel vivo che c'era uno degli esponenti della corrente Anderotti a chi era Cirino Pomicino che era medico e si occupava sempre di tutt'altro diceva ma me ne frega tanto insomma non facciamo mai una bella figura e siamo quasi in chiusura con ovviamente i reality sono in genere un recittacolo di trash di veramente diciamo se non c'è trash non non c'è visione diciamo io credo da 25 anni da quando c'è in Italia il grande fratello è una serie continua di insulti di frasi razziste omofobe eccetera quindi diciamo è stata recentemente Katia Ricciarelli che si è si è anche lei prestata a delle offese sul vestito di un altro concorrente sembri un fro quello che è e quindi in qualche modo diciamo evidenzia un certo tipo di di elemento colloquiale che ovviamente fatto in televisione diventa il massimo della dell'insulto non è più un elemento di politicamente scorretto ma proprio insulti veri e proprio e qui arriviamo per concludere a al 2020 no è la per l'ultima in realtà poi ce n'è un'altra e mi viene in mente Zecchiele Lupo di di Cristian De Sica di vacanze di Natale e qui è lo stesso lo stesso Gian Bruno Gian Bruno uno che appunto utilizza frasi molto simili sull'elemento sessuale l'elemento di varia natura e qui diciamo che mi ha mi ha ricordato questo questo aspetto prestato alla dal cinema come battute che al cinema negli anni 50 60 70 80 erano in qualche modo contestualizzate quello che abbiamo detto noi oggi purtroppo vengono utilizzate in tempi recenti come appunto insulti o come elementi veramente da criticare su tutta la linea non ci sono giustificazioni di nessun tipo ma poi c'è da dire che questa è la realtà cioè un conto questa cosa l'avessero girata in un film tu magari ridevi di questo personaggio e anche della battuta ma questa è la realtà cioè questo è il collega di lavoro che con te vicino fa una battuta bruttissima ad una donna e ti dà anche di spalla per aspettarsi che ridi te e che invece ti provoca solo fastidio dentro è la stessa cosa insomma cioè questa è la versione di Verdone ma della realtà che Verdone ridi è Verdone ridi qui piangi purtroppo piangi perché lì in realtà è una presa in giro anche del personaggio stesso è una esagerazione qua no qua è vero e per concludere proprio fresca fresca di poche settimane c'è Chierini che purtroppo pure lui diciamo che ha delle cose di grande comicità ma poi scade purtroppo in delle dei momenti veramente trash tragici in cui appunto ha fatto un commento contro gli ebrei appunto nei confronti del film la zona di interesse appunto qui sappiate che il film è il più bello della cinquina quello suo io capitano solo che non vincerà forse perché vinceranno gli ebrei quelli vincono sempre e quindi abbiamo qui chiuso con ovviamente polemiche su polemiche e chi più ne ha più ne metta sul discorso di volere etichettare che poi tra l'altro una battuta anche poco felice perché non entrava neanche nel merito della questione visto che il film trattava una sì trattava la tragedia della Shoah ma affrontava un tema diverso rispetto a quello specifico quindi diciamo che secondo me se posso dire che è razzista nei confronti degli ebrei in realtà è origina da quella subcultura ormai neanche tanto strisciante ben visibile di persone che hanno ritirato un po' fuori l'antisemitismo perché lo hanno collegato alle azioni di Israele cioè ormai c'è da una parte anche un po' a causa di Israele che gioca molto sul suo legame con l'ebraismo per dire voi ci attaccate perché siete antisemiti però dall'altra parte un sacco di persone hanno smesso di vergognarsi di essere antisemiti hanno iniziato a dire ah gli ebrei sono tutti uguali come Israele eccetera eccetera quindi secondo me questo più che di razzismo sì ma di una sottocultura che non sta scompare ma si sta invece ampliando purtroppo è un qualcosa però che torna perché non credo che visto che le guerre arabo-israeliane esistono dal 47 in poi c'è sempre una componente politica all'interno di quella diciamo etnica e viceversa diciamo si autoalimentano e hanno alti e bassi che purtroppo poi vengono cavalcati quando in un senso e quando in un altro diciamo che siamo di massima non dovrebbero essere cavalcati in nessun senso però purtroppo ci troviamo in queste in queste situazioni allora siamo arrivati alle 19 e 30 io ho promesso a Gioele di essere categorico perché so che lui deve adesso fare il pit stop della cena e andare a lavorare poi le otto sto a lavorare sì esatto quindi diciamo non gli rubo altro tempo io lo ringrazio immensamente perché è stata una diretta bellissima è stata un'esperienza spero che vorrà tornare magari per parlare di altri argomenti quindi per la sua disponibilità io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con commenti con suggerimenti con mi piace eccetera vi rimando alle prossime domani mattina nell'appuntamento delle 6.45 ci sarà una recensione di un libro su Totò la storia e Totò una cosa particolare e qui diciamo che vi invito domani mattina quindi grazie a Gioele grazie a tutti quanti buonasera a domani allora chiudiamo grazie a tutti